Storie di uomini e imprese che fanno vivere la montagna, un libro di Stefano Vietina. Una finestra sull'economia del Cadore e del Comelico, alla scoperta di tante piccole e grandi storie delle Dolomiti. Lo spazzacamino, l'uomo che vive con le api, il gestore di un rifugio, la guida alpina, il boscaiolo del terzo millennio. Storie di uomini e imprese che fanno vivere la montagna, nelle librerie del Cadore e del Comelico, da Belluno a Cortina e anche online su stefanovietina.it Presentazione del libro il 4 febbraio 2012, ore 18, Cortina, Hotel Miramonti Majestic.